Pronto? Pronto? No no, due moto nuove devo seguirti eh? No no, io ho paura, perché stavo preparando. Questa ti scappa fuori dalle mani eh? Senti che roba! Pronto? 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 Trasico! c'è un po' e 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 moto nuova verso i vecchi e va bene e e vedo andiamo andiamo troppo caldo poi gli ho messo anche l'avviamento a mano avviamento? a mano? questo? si questo devi cambiare mettere su così perché quelle lì sono scattute ti fanno anche male quelle cose lì e ti prendo dentro la gambetta quello si e basta il resto da dio io stamattina prima di fare una lavata non potevo venire con la moto non mi ricordo quando è stato è arrivato pronto prima gli ho detto così l'ha fatto la zona ai 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 a 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 e come johnny non è stabile mentalmente ma riesce te non sei stabile ma lo fai zona 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 con la moto nuova con la moto nuova zona ma come no via a casa via dai dai su qua e vai